Si cambia il cielo, guardate queste scarpecato, sono vado la macchina! Guardate, tu vuole la scuola! Vi abbiamo formato, per aiutarci a vivere! No, ma ti fate parcia! Fate parcia! Anche tu, forza! Parcia! Vabbè, parcia! Che vuoi? Criminologa, capirai! Che volevo? No, 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 ci dava un filosofo... Insegnano da tutti e lei, è laureata in filosofia? Chi fa? Ma, e qual è il nome di questo filosofo? Ma non ha importanza, il suo nome appartiene alla scuola dei nominalisti. Non so se conosce la corrente filosofica. Eh sì, conosco, conosco bene. Comunque, le vostre ex compagni di liceo, loro hanno visto questo ugo? Dove sono? Sono venuti a riposare un po' di... Verate loro! Tutte sul fioletto? No, anche a scuola di Mila, nel costiglio e nel lato. Il ballo? Sì, ci è toccata proprio tu quella rossa. Quando corpo chiede riposo, basta piccolo giaciglio. Quando mente chiede riposo, necessita grande silenzio. E questo è sempre del nominalista irlandista? No, di un giappone. Ah, e consiglia? Non ha importanza il suo nome? Anche lui è il nominalista, ma di lavorare in delle orientali. Ma che stacqua è lato? Ma che stacqua è lato? Sempre! Sempre! Allerto! Percepiscita! 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 E lei cosa ne pensa di questo ugo? Che mi disturba la concentrazione! Oh! Ma volete collaborare? Sì, 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 sì. Sto cercando di avvertire migrazioni ombre magnetiche negativi. Sì, 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 sì. Che potrebbe la ricondurre alla scomparsa? Un po' di silenzio! Senta, noi veramente non le dà! Silenzio!